Radio Firenze Viola Tweet, Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno ai nostri ascoltatori Un pari bello e inutile, come scrive stamattina la gazzetta dello sport, quello di ieri sera tra Roma e Fiorentina Viola che si è dimostrata bella, sì, ma poco cattiva e molto ingenua, ricadendo ancora una volta nel virus della pareggite A sottolineare la prestazione le parole di Pioli nel postpartita Non riusciamo a chiudere le partite, ha detto il mister, subiamo gol nelle poche azioni che concediamo Ma la Fiorentina di stasera mi fa desperare per il finale di stagione Le note positive di ieri sera, il rientro di Chiesa in campo per cento minuti e la prestazione di Gerson coniata con il gol dell'ex In attesa di capire se basterà farlo restare a Firenze Per Fiorentina1.com, Antonio Tedesco